Eravamo rimasti a pagina 380. L'unica società da noi conosciuta che sarebbe capace di farci concorrenza in queste arti potrebbe essere quella dei gesuiti. Ma siamo riusciti a screditare i gesuiti agli occhi della plebe, stupida per la ragione che questa società è un'organizzazione palesa. Mentre noi ci teniamo dietro le quinte mantenendo il segreto. Protocolli quinto I protocolli sono una serie di 24 dichiarazioni programmatiche attribuite ai sabi di Sion. I propositi di questi sabi c'erano la pazza abbastanza contraddittoria. Talora vogliono abolire la libertà di stampa, talora incoraggiare il libertinismo. Criticano il liberalismo, ma sembrano enunciare il programma che le sinistre radicali attribuiscono alle multinazionali e alla capitalistica. Compresa l'uso dell'asporto e dell'educazione visiva per imbecillire al popolo. Analizzano varie tecniche per impadroniarsi del potere mondiale e allogiano la forza dell'oro. Decidono di favorire le rivoluzioni. Milano i paesi sfruttando il malcontento e confondendo il popolo, proclamando idee liberali. Però vogliono incoraggiare le disuguaglianze. Calcolano come instaurare ovunque i regimi presidenziali controllati da uomini di Paglia e dei sabi. Decidono di far scoppiare guerre, aumentare la produzione degli armamenti, e lo aveva detto anche Sanon, costruire metropolitane, sotterranea, per avere modo di minare le grandi città. Dicono che il fine giustifica i mezzi, e si propongono di incoraggiare l'antisemitismo, se per controllare gli ebrai poveri, che per intenerire il cuore dei gentili, di fronte alla loro sventura, costosa, diceva Giotta Leve, ma efficace. Affermano che un candore abbiamo un'ambizione senza limiti, un'ingordizia divoratrice, un desiderio spettato di vendetta e un odio intenso, esibendo uno squisito masochismo, perché riproducono con gusto il cliché dell'ebra malvagio, che già stava circolando nella stampa antisemita, e che addornerà le copertine di tutte le edizioni del loro libro, e decidono di abolire lo studio dei classici e della storia antica. Insomma, osservava Bambu, i sabi di siena erano una manica di coglioni. Non scherziamo, diceva Giotta Leve, questo libro è stato preso molto sul serio. Purtroppo mi colpisce una cosa, che volendo apparire come un piano ebraico antico di secoli, tutti i suoi riferimenti sono a picco di polemica francese fin di secolo. Pare che il ceno ha l'educazione visiva, che serve ad imbecillire le masse, all'udessa al programma educativo di Leone, scusate Berro, che fa entrare i nuovi massoni nel suo governo. Un altro brano consiglia di fare leggere persone compromesse, con lo scandalo di Panama, e tale era Emile Loubet, che nel 99 diventa la presidente della Repubblica. L'accena il metro è dovuto al fatto che in quel tempo i giornali di Vesta protestavano perché la compagnia di un metropolitano aveva trappi azionisti ebrei. Per questo si suppone che il testo sia stato messo insieme in Francia nell'ultimo decennio dell'Ottocento, al tempo dell'affare Dreyfus. Per indebolire il fronte liberale. Non è questo che mi impressioneva, aveva detto Berro. È il déjà vu. La sintesi della faccenda è che questi sabbi raccontano un piano per la conquista del mondo e noi questo discorso l'abbiamo già sentito. Provate a tagliare alcuni riferimenti a fatti ai problemi del secolo scorso, sostituiti i sotterrani del metropolitano e i sotterrani di Provà. E tutte le volte che c'è scritto ebrei, scrivete templari, e tutte le volte che c'è scritto sabbi di Sion, scrivete 36 visibili divisi in 6 bande. Amici miei, questa è l'ordination di Provà. Noventa quattro Volta lui-même è smart jesuita, e ne vuole dire il Le moindre soupe con FN de Bonneville Le jesuit chassé De la maçonnerie Eta l'heure poignarde brisée Par l'air marquant Orient de Londres Avevamo tutto sotto gli occhi da tempo e non ce ne eravamo mai resi conto appieno. Lungo sei secoli, sei gruppi si battono per realizzare il piano di Provà e ciascun gruppo prende il tasto ideale di quel piano. Mi cambia semplicemente il soggetto e lo attribuisce alla Barsaglia. Dopo che il Rosacroce si fa vivere in Francia, i gesuiti avvolgono il piano negativo, scariditando il Rosacroce, scariditando i Bacconiani e la nascente maçonneria inglese. Quando i gesuiti inventano il neotemplarismo, il Marchese del Roussaint attribuisce il piano neotemplare, i gesuiti che ormai stanno scaricando anche i neotemplari attraverso Barro e Coppino Lusce, ma attribuiscono il piano a tutti i formassoni in genere. Con la professiva Bacconiana, andando a spulciare tutti i testi della polemica liberale e laicista, avevamo scoperto che da Michele a Equiné, Siena Garibaldi e Gioria Giobardi si attribuivano la donazione ai gesuiti, e forse l'idea veniva dal templare Pasquale e dai suoi amici. Il tema diventava popolare con l'ebrea rante di Eugène Sine e col suo personaggio del malbraccio Mons. Rodin, quinta essenza del comprato gesuitico nel mondo. Cercando in sé, avevamo trovato ben di più, un testo che sembrava ricalcato, ma in anticipo di mezzo secolo, sui portacoli, parola per parola. Si trattava dell'ultimo capitolo dei misteri del popolo. Qui il diabolico piano gesuita era spiegato sino all'ultimo delettuoso dettaglio in un documento inviato dal generale della compagnia, padre alla Rautana, personaggio storico, e a Monsignor Rodin, già personaggio delle brevare rante. Rodolfo di Gerlstein, già autore dei misteri di Parigi, ne veniva in possesso e lo rivelava i democratici. Vedete, caro Lebron, come questa trama infernale benordita, quali spaventeboli dolori, quale orrenda dominazione, quale dispottismo terribile riserva l'Europa e il mondo se per la sventura riesce. Sembrava la prefazione di Ninos ai protocoli, esso attribuiva ai gesuiti il motto che ritroveremo poi nei protocoli, attribuito agli ebrei, e il fine giustifica in mezzo. Siamo a pagina 383.